Oggi voglio costruire un gioco per il mio gattino e come sempre lo farò utilizzando unicamente legname di recupero. Iniziamo! Ciao, mi chiamo Mitch e sono un filmmaker. Nel tempo libero mi piace essere creativo. La mia sfida è quella di trasformare vecchio legname in oggetti che possono essere ancora utilizzati nella nostra vita quotidiana. Per questo progetto mi sono già fatto un'idea molto chiara prima di iniziare la lavorazione. Quello che voglio fare è costruire il classico gioco a chiappa la talpa. Lo realizzerò costruendo in primis la scatola che conterrà il tutto. Inizio quindi la lavorazione trovando il legname più adatto tra tutti i pezzi di recupero che ho nella mia legnaia. Nel dettaglio ho deciso di sfruttare dei pezzi di un letto Ikea che ho avuto in regalo. Il primo step del progetto è quello di creare appunto una scatola ma senza il coperchio. Vado quindi a rifilare per la lunghezza due delle tavole più lunghe che ho scelto. Una volta scelte le misure ideali per le dimensioni di questa scatola taglio tutti i pezzi che mi servono. Ho abbastanza legname per farne due. Quindi ne approfitto e continuo la lavorazione. Poco dopo passo le tavolette con la pialla a mano per rimuovere facilmente la vecchia vernice bianca. Come si può vedere il legno sottostante è veramente bello. Una levigata al volo e questa fase è già a buon punto. Fisso ora con varie viti i contorni verticali della cassetta. In un paio di punti sono ancora presenti i buchi originali del letto perciò vado tranquillamente a tapparli. A questo punto inizio a pensare al meccanismo del gioco vero e proprio. Tra i miei scarti ho trovato dei bacchetti di legno che si adattano molto bene all'idea. L'idea è di bucare la scatola per riuscire a far sbucare lo stecchetto lateralmente. Prima di bucare vado a preparare un altro elemento che mi servirà per il funzionamento. Se avete visto l'episodio numero 8, quello in cui ho realizzato dei portacuffi da scrivania ricorderete che non ho utilizzato tutti i pezzi provenienti dalla vecchia sponda del letto. Infatti ho conservato quel pezzo di legno che sosteneva la rete del letto e in questo caso mi viene molto utile perché ha già una forma particolare. Vado a tagliare da quest'ultimo sei pezzetti. L'idea è che questi pezzi dovranno aiutarmi nella parte interna della scatola in legno. Vado a bucarli e ad infilarli sui vari stecchetti. Arriva ora il momento di preparare l'alloggio per il meccanismo di gioco. Devo quindi bucare l'asse frontale per poterci inserire gli stecchetti. Nel mio caso ho voluto allargare il foro con la fresa. Poco dopo posso provare ad inserire gli stecchetti. Il progetto pian piano prende forma. Taglio quindi gli stecchetti della giusta lunghezza. Adesso devo pensare a chiudere questa scatola. Sfrutto un pannello di due millimetri che vado a tagliare delle giuste dimensioni interne. Preparo bene il tutto ma aspetto prima di incollare. È giunto anche il momento di preparare il coperchio di questa scatola che avrà un ruolo abbastanza importante. Per farlo sfrutto un altro pannello un po' rovinato ma sicuramente recuperabile. Lo taglio leggermente più largo della scatola, lo levigo e passo con la fresa tutti gli spigoli. Fisso adesso il fondo e prima di lavorare il coperchio preparo le manopole esterne della scatola. Per farle sfrutto degli scarti di ciliegio che vado a tagliare ed incidere con un disegno a tema. Dopo una leggera levigata sono pronti per essere poi incollati anch'essi agli stecchetti. In questo momento ho praticamente quasi tutti i pezzi che mi servono. Direi che possiamo iniziare l'assemblaggio. Una delle cose molto importanti è stato creare la parte esterna decorativa più o meno dello stesso peso della parte interna. In questo modo il ponte che viene a crearsi è abbastanza equilibrato. Per risolvere questo problema credo che proverò ad utilizzare dei semplici elastici. Il meccanismo devo dire che funziona abbastanza bene. Come nel vero gioco di acchiappa la talpa anche nel mio caso dovrò fare in modo che la superficie superiore sia bucata. Prendo quindi le misure per creare quattro buchi sul coperchio che ho appena creato. E chiaramente i buchi dovranno corrispondere alla posizione dei blocchetti sottostanti. Già che ci sono passo anche una mano di pittura. Continuo adesso i dettagli per la parte interna. Ho tagliato a misura dei pezzetti di legno che poi ho incollato sul blocchetto all'estremità dello stecchetto. Per renderlo più interessante lo vado a ricoprire con un pezzo di un sacco di vecchia juta. Infine incollo il coperchio e il gioco è finalmente pronto. Non ci resta che scoprire se funziona. Ecco il gioco per i miei gattini finalmente finito. Un oggetto semplice ma che li impegnerà per parecchio tempo. Sempre che non me lo distruggono prima. Il meccanismo funziona abbastanza bene. Forse qualche miglioria si può ancora fare. Passiamo adesso come sempre a vedere quanto legno ho riciclato. In questo episodio sono riuscito a crearne due con lo stesso identico procedimento. Il totale del legno che ho riciclato corrisponde a 2,4 kg. Aggiorno il mio counter passando dai 95,3 kg agli attuali 97,7 kg. Se questo video ti è piaciuto fammelo sapere iscrivendoti al canale youtube di Papillion Woodprint in modo da non perderti i miei prossimi progetti di riciclo creativo.